Nei giorni scorsi come sindaco, utilizzando il mio collegamento Facebook, ho lanciato un appello ai cittadini per avere delle coperte e degli indumenti pesanti per delle persone di Berceto che ne hanno bisogno, visto il perdurare del freddo e del gelo. Ho avuto ancora una volta la conferma che le persone sono generose, che Berceto è tenuto in considerazione da tutti i cittadini della provincia, abbiamo raccolto diversi indumenti, una parte li abbiamo già distribuiti, una parte si farà carico il vice sindaco di distribuirla in mattinata. Quindi volevo cogliere l'occasione per ringraziare ancora una volta a tutti e la generosità delle persone mi dà anche molto coraggio nel continuare a impegnarmi pur in queste condizioni che sono condizioni difficili.